Tante le proteste sulla strada di località Madonna Ponte a Fano, in località Treponti, completamente dissestata e piena di buche. Qui si rischiano incidenti e gravi danni alle automobili, ci dicono esasperati i residenti. Il tratto stradale è utilizzato principalmente dagli abitanti e dai volontari del canile del gattile Melampo, che richiedono da tempo e al più presto l'asfaltatura da parte del comune. Una situazione non più tollerabile, ci dicono gli automobilisti, data la pericolosità di questa strada. Signora, lei è residente in questa strada, ci racconti i disagi? Sono tantissimi, ha visto anche lei come è messo, qua non si cammina più, si spaccano le macchine, ci sono le buche immense. Io anni fa ho fatto una foto e ho mandato a Fano TV, appunto perché non se ne può più in queste condizioni, quindi c'è anche il canile. Quindi facciamo un appello al comune? Ah, certamente, quanto prima, poi passiamo tre o quattro volte al giorno, quindi prima la mettono a posto è meglio. Ragazze, dove state andando? Al gattile, a fare volontariato e ogni volta che passiamo su questa strada è sempre piena di buche e non si passa praticamente, cioè non è fattibile, più che altro perché avendo anche una 500 mi si spacca le ruote praticamente per venire qua, quindi spero che la rimettano a posto il prima possibile. Anche perché ovviamente si rischiano danni alla macchina, grossi. Sì, più che altro anche alle ruote che veramente passi su questa strada, ci sono i crateri e quindi spero che prima o poi faranno qualcosa, mi auguro almeno. Un appello al comune per risistemare questa strada? Un appello al comune è questo qua, che praticamente, visto che San Fortunato l'hanno fatto, questa è la strada parallela, quindi si spera che almeno fino all'ultima casa, la villetta che c'è in fondo qui, di Dianna Asfaltato. Ci arrivano fino in fondo quel collegamento, praticamente arriverebbero in fondo nella strada che praticamente arriva a sbuca lì davanti al ponte della Snam. Dovrebbero sistemarla, ma è tanti anni che si... Voi siete volontari del canile, questa strada è disastrata? Sì, è veramente terribile fare questa strada tutti i giorni, alcune anche più volte al giorno, è pieno di buche, è stato così, ogni tanto vengono messe a posto, ma durano pochissime ore e si lamentano sempre anche i visitatori che vengono, perché comunque venire a visitare il canile per magari intraprendere un percorso di adozione diventa difficile, perché la strada è veramente dissestata. Un appello al comune? Per favore, considerate anche questa strada che è stata trascurata per tantissimi anni, da sempre che io ricordo, io vengo in canile da tanti anni e cerchiamo di metterla a posto in modo definitivo.